ben ritrovati a tutti gli amici di cultura pop qui è sempre il vostro alex che vi parla e siamo ritornati con il nostro consueto appuntamento delle video recensioni siamo tornati alla grande perché perché oggi finalmente andremo a parlare di tamashi nesho in particolare di questo gundam dynamize repair 3 per la linea metal build tratto da gundam 00 come sempre ringraziamo i nostri amici di tamashi nesho e cosmic group per averci inviato questo sample se non l'avete ancora fatto vi ricordo di seguirci sui nostri canali social di attivare la campanella e di rimanere sempre sintonizzati su tutte le nostre uscite detto questo non ci resta che andare ad analizzare questa bellissima scatola che non vedo l'ora di prendere in mano e ad aprirla per avere questo bel robottone tra le mie manone come sempre partiamo dalla parte frontale di questo scatolone come potete vedere è a forma rettangolare con la scritta metal build in rilevo argentata e anche i bordi il prodotto fa parte di tamashi nesho e bandai spirits per la linea appunto metal build possiamo vedere già a figure intera con tutte le armi che avrà a disposizione il nostro gundam dynamize qui sulla parte frontale per anche la spada laser il logo gundam 00 appunto da cui è tratto questo bellissimo gundam come potete vedere nella parte quelle laterali è molto sottile perché minuziosamente hanno messo tutti i pezzi incastrati nella giusta maniera in modo da occupare meno spazio possibile anche per noi collezionisti lo spessore ne teniamo molto conto perché meno spazio occupa e meglio è per noi per tenere le scatole passiamo alla parte posteriore dove possiamo vedere il gundam in varie pose tutti gli extra le armi che troveremo a corredo guardate un po che figata di pose che potremmo fare perché questi robot oltre a essere pesanti sono anche super snodabili guardate un po quanti extra quante armi che troveremo all'interno bando alle ciance e andiamo ad aprire la scatola bene intanto ho già tagliato lo scotch per prendermi avanti quindi andiamo ad aprire e vediamo un po come troviamo imballato tutto quanto innanzitutto possiamo vedere che ci sono dei blister quindi vediamo un po cosa troveremo e del polistiroleo ok quindi nel primo blister anzi sono in verità due perché sono divisi partiamo da questo dove troveremo una basetta guardate un po che figaggine con il nome del gundam il logo e tutto quanto e i part e le parti appunto per sostenere il robot con le varie armi quindi perni ganci e tanto altro invece nel secondo blister come possiamo vedere ci sono gli scudi il fucilone guardate un po le spade laser appunto come vi dicevo le varie mani intercambiabili per afferrare appunto fucili scudi e tutto quello che avremo in dotazione qua i propulsori che si attaccheranno dietro la schiena per volare questa parte qua che dovrebbe essere la parte frontale del cinturone i vari agganci anche questo qua se penso sono per per sostenere gli scudi e nient'altro quindi andiamo a vedere un po cosa c'è oltre qua beh il classico libretto delle istruzioni che poi andremo a consultare però danneggiare assolutamente nulla e qua in fondo c'è a è sigillato quindi adesso andrò a prendere il taglierino per rimuoverlo e qua ovviamente ci sarà il robot andiamo a rimuovere queste parti di pulistirolo così andiamo anche a toccarlo con mano ea vederlo da vicino ma guardate qualche bellezza ovviamente manca da parte davanti del cinturone che questa qua è innanzitutto ragazzi preso in mano si sente benissimo il peso dell'esoscheletro in metallo e vi ricordo che non so se si vede anche qua è tutto metallo tutte le giunture sono in metallo guardate anche qua non so se si vede invece le parti esterne qua sono in plastica in pvc guardate un mamma ragazzi qua è la prima volta che prendo in mano un gundam e vi assicuro che è davvero meraviglioso vediamo un po so qua prendo il metro quindi partendo dalla base dei piedi ok siamo sui 18 centimetri e mezzo direi che non è male con altezza adesso prendo vado a sistemarlo un po con tutte le armi qua vado a montarlo e poi ci ritroviamo anche tra un po per vedere cosa è uscito dopo aver consultato il libretto delle istruzioni guardate un po sono riuscito a montarlo almeno nella forma base con gli scudi cannoni qua nella parte laterale che ho montato appunto il gonellone qua davanti quello dietro con i propulsori per volare che anche qua si aprono si chiudono anche gli scudi qua non la parte qua che guardate un po che si alza si muove veramente a livello di ingegneria guardate ragazzi è qualcosa di spettacolare sentirete che una volta che avrete montato il gundam si direte che il peso aumenterà ancora di più assolutamente promosso ragazzi ci vediamo tra un po per le considerazioni e il riassunto finale allora se vedete il prodotto che è scatolato non vi preoccupate non è un errore di montaggio del video ma è l'alex del futuro che vi sta parlando sono tornato indietro nel passato perché perché mentre facevo le foto per la recensione scritta mi sono accorto di molti dettagli di questo gundam che mentre registravo il video non avevo visto magari non avete la possibilità di leggere anche la recensione scritta mi sembra comunque giusto farvi di vedere anche a voi per apprezzare anche appunto il lavoro svolto dei progettisti di questo robot questo mecca che è davvero spettacolare quindi vado immediatamente a prendere il gundam ci sono questi ginocchiere che si aprono e dentro praticamente hanno dei missili possono anche togliere c'è questa parte può affrontare nel petto che si apre guardato un po e questa parte qua serve per si appoggia il fucile questo quello gigante in una posa praticamente a due mani che si tiene sono ovviamente non possono darvi in video perché altrimenti il video diventerebbe lungo due ore c'è questa parte qua praticamente il diadema che si abbassa e va a coprire gli occhi che fa uscire praticamente questo cerchietto qua che molto probabilmente servirà per qualche attacco non avendo visto la serie animata sono un po ignorante lo diciamo su questa cosa qua però è bellissima anche come cosa che sia molto fedele alla controparte insomma anche il diadema si abbassa altrimenti lo alziamo e torna normale semi nascosto eccoci ritornati per i saluti finali con questo bellissimo gundam dynamize repair 3 da tamashi nation per la linea metal build vi ricordo come sempre di seguirci su tutti i nostri social come sempre ringraziamo tamashi nation e cosmic group per averci inviato questo sample che trovate in vendita ad un prezzo di circa 300 euro ragazzi i soldi li vale li vali davvero tutti quanti è bellissimo è pesante è super dinamico ha tantissimi accessori super posabile insomma per gli amanti di gundam non ve ne pentirete assolutamente da alex è tutto dal nostro gundam che vi saluta ci vediamo alla nostra prossima video recensione ciao